ciao a tutti bentornati ad endopaint puntata del lunedì puntata che parte con una notizia importante perché è stato presentato il campionato di serie A di 2022-2023 oggi a Bologna ed ha parlato il presidente della Lega Basket Umberto Gandini annunciando la ritrasmissione in chiaro di una partita a settimana su Dmax canale 52 del digitale terrestre ma una volta al mese sempre la domenica alle 17.35 la partita verrà trasmessa su 9 al canale 9 della piattaforma andiamo invece a parlare di Coppa Italia perché abbiamo la sede per la nuova edizione della Coppa Italia che sarà in programma dal 15 al 19 febbraio e questa è Torino si giocherà quindi all'ombra della mole antonelliana come detto la weekend sarà molto lungo si comincerà il mercoledì 15 si giocherà poi giovedì 16 riposo il 17 semifinali il 18 e finale il 19 andiamo invece a parlare di dichiarazioni perché ha parlato al Corriere di Bologna l'ex coach della Virtus Bologna ultimo a vincere lo studetto con le buniere sale Giorgevic reduce dalla buona stagione con il Fenerbahce che l'ha visto alzare anche il titolo turco andiamo subito a leggere le sue dichiarazioni sarà una serie A molto bella come sempre altamente competitiva con tante squadre di valore un campionato tutto da scoprire non so se andrà a finire con come sempre con Milano Virtus non sono bravo a fare pronostici ma ci sono tantissime altre buone squadre in Italia non è mai facile giocare contro chiunque le società sono orgogliose e cercano di allestire buoni roster questa è la grande qualità del basket italiano la Virtus in Eurolega attualmente la migliore competizione in Europa quindi per i tifosi sarà bello poter partecipare andiamo avanti invece con il programma del basket in questo prossimo metà settimana in questo prossimo intermedio di settimana perché comincia la Supercoppa sistema di Final Four si gioca al Palla Leonessa A2A di Brescia si comincerà con Sassari Tortona prima semifinale dopodiché Virtus Bologna ed Olimpia Milano si vedranno faccia a faccia per la prima volta in stagione nella seconda la finale si giocherà il giorno ventotto settembre il giorno ventinove settembre dopo domani quindi si comincia si terminerà giovedì un antipasto di campionato già con un big match sicuro e con un trofeo in palio vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento a mercoledì sempre qui sempre sul parquet in the paint sempre con le anteprime delle partite e sarà uno speciale Supercoppa ciao a tutti ciao